Ancora una bella affermazione per la piccola mazzone Antonia Todisco. Dopo una tre giorni di sole e di pioggia al Cavaliere Country Club di Agnano, Antonia ha conseguito il titolo regionale che gli vale la missione alla rappresentativa campana che gareggerà a Verona all'ippodromo di Fiera Cavalli nel mese di novembre, dal 5 all'8 e dal 13 al 15. La baby Cavallerizza inoltre sarà l'unica a prendere parte nella manche individuale dei 110 ostacoli, oltre che a gareggiare per quella di squadra. Maurizio Talarico, dunque per il team Pony, avrà una freccia in più nell'arco con Antonia che insieme al suo cavallo Orchiz Roy e la maestra Melanie Falvo sbarcherà in Veneto per cercare di portare a casa un successo che consoliderebbe le ambizioni dell'atleta avellinese. Avellino e l'equitazione dunque vanno di pari passo e del movimento legato al mondo equino è in piena espansione. Essendo individuale è anche una disciplina più che sicura. Un weekend di fuoco ora attende Antonia che da domani all'ippodromo della Macchiarella di Fiumicino gareggerà per le centro meridionali.